Preghiera contro il male con l'intercessione di Santa Faustina Kowalska. Liberati oggi. Cari fratelli e sorelle, oggi ci uniamo in una preghiera potente, profonda e trasformante. In questo momento, ci raccogliamo attorno al Sacratissimo Cuore di Gesù, il Cuore trafitto per amore dell'intera umanità, per implorare la Sua grazia e la Sua protezione. Questa preghiera non è solo un atto di devozione, è un'arma spirituale contro ogni forma di male che tenta di entrare nelle nostre vite. Con l'intercessione di Santa Faustina Kowalska, la Segretaria della Divina Misericordia, invochiamo l'aiuto celeste affinché il male venga allontanato da noi e dal mondo, una volta per tutte. Unitevi a noi con fede e cuore aperto, lasciando che il potere dell'amore di Cristo vi avvolga e vi liberi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Sacratissimo Cuore di Gesù, Cuore che pulsa d'amore eterno per ciascuno di noi, Cuore squarciato dal dolore per redimere l'umanità, ci inginocchiamo davanti a te, con umiltà e piena fiducia, per chiederti di allontanare da noi ogni forma di male. Con il tuo sacrificio sulla croce, o Signore, hai sconfitto il peccato, la morte e ogni potere delle tenebre. Attraverso il tuo sangue prezioso, ti supplichiamo di lavarci da ogni impurità, di spezzare ogni legame con le forze malvagie e di ricoprire noi e i nostri cari con la tua protezione divina. O Gesù, il cui cuore è una fornace ardente di misericordia, guarda a noi con compassione. Ascolta il grido dei tuoi figli, minacciati dal male nelle sue mille forme, paure che paralizzano, odio che divide, malattie che consumano corpo e spirito, inquietudini che strappano la pace. Per l'intercessione della tua fedele serva, Santa Faustina Kowalska, ti affidiamo le nostre preghiere. Ella, che ha contemplato la grandezza della tua misericordia, ottenga per noi la grazia di respingere ogni tentazione, di rimanere saldi nella fede e di camminare nella tua luce.R Santa Faustina, che hai scritto le parole di Gesù per portare il messaggio della misericordia a un mondo ferito, prega con noi e per noi. Invochiamo il tuo aiuto affinché possiamo trovare rifugio nel cuore di Cristo, fortezza impenetrabile contro il male. Sacratissimo cuore di Gesù, poni il tuo sigillo su di noi. Circonda le nostre case, le nostre famiglie, i nostri pensieri e il nostro lavoro con il tuo amore invincibile. Spezza le catene di ogni oppressione, liberaci da ogni spirito di divisione, e donaci la gioia della tua presenza viva. Con questa preghiera, o Gesù, affidiamo a te ogni parte della nostra esistenza. Concedici la forza di combattere contro il peccato, il coraggio di resistere al male, e la grazia di vivere nella tua verità e nel tuo amore. O Maria, Madre del Cuore Sacratissimo, intercedi per noi presso tuo Figlio. Avvolgici con il tuo manto materno e guida i nostri passi. Insieme a tutti gli angeli e i santi, proclamiamo la tua vittoria, o Signore, e confidiamo nel tuo infinito amore e nella tua protezione. Sacratissimo Cuore di Gesù, confido in te, Santa Faustina Kowalska, prega per noi. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie.